Ciao a tutte, la nave è salpata, il capitano ci ha detto di raggiungere le nostre cabine perché si prospetta una navigazione un po' come dire burrascosa ma noi vogliamo diciamo rimanere qui nella sala insieme a tutti gli altri ospiti per poter girare un video, come vedete siamo vestiti in perfetto stile marinaro scherzo ragazze, cazzeggio, cazzeggio di fine serata, tag, video tag ho pensato di realizzare questo tag completamente inventato dalla mia testolina perché adesso va molto di moda inventare i tag e io mi sono detta ma Silvia, voglio dire, questo tag è proprio originalissimo in realtà credo che qualcosa di simile girasse anche tempo addietro come se un professionale tipo con l'agenda e la penna, la maestrina secondo me girava qualcosa del genere più o meno ma io adesso mi sono messa qua, ho tirato giù due robe se qualcuno aveva già fatto questo tag non fa altro che dirmelo io mi cuccio la bocca, mi cospargo il capo di cenere e mi inginocchio sui ceci chiedendo scusa ovviamente alla autrice barra autore ma queste sono robe da femmine proprio insomma va bene i pezzi wow del mio guardaroba primaverile quindi tutti quei pezzi del mio guardaroba che sono o i miei preferiti di sempre o comunque che sono dei capi un po' più ricercati un po' più diciamo costosi nel senso di miglior fattura e quindi che magari ci accompagnano da vari anni e che ritornano sempre ad essere delle pietre miliari del nostro guardaroba quindi un'occasione per mostrare un po' di chicche e come vedrete dall'info box ho stilato quindi una categoria per una lista di domande di cose a cui rispondere che è appunto uno per categoria quindi un cappottino, la giacca, l'abito e bla 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 volendo anche, diciamo si può arrivare fino a tre se abbiamo abbondanza di quella categoria da mostrare allora iniziamo subito perché si prospetta un video veramente lungo quali sono i miei pezzi wow per quanto riguarda gli spolverini e quindi i cappottini e quindi diciamo i capi spalla che mi accompagnano di primavera in primavera o che comunque sono i miei preferiti per la primavera allora ve ne farò vedere tre uno è diciamo anzi ve ne farò vedere due uno è diciamo più low cost anzi decisamente low cost l'altro invece ai tempi mi pare di averlo acquistato se non sbaglio nel 2008 circa quindi insomma sta con me già da sette anni sette stagioni e lo uso sempre è stato un acquisto diciamo ben più costoso per quanto riguarda l'acquisto low cost è uno spolverino che ho preso anni fa ai saldi l'ho pagato veramente un'idiozia sui 20 euro 19 euro quei prezzi lì fantastici ed è il classico impermeabilino stile barberry per intenderci il trench di Zara con le manichine a sbuffo il doppio petto è molto avvitato insomma classicissimo con la cintura che oh mio dio non vedo mi manca la cintura questo è un dramma chissà dove l'ho messa quindi il classico spolverino alla barberry per intenderci e quindi questo è e resta uno dei capi miliari del mio guardaroba comunque spavento rientrato perché la cintura era in tasca quindi si stringe in vita rimane molto ben sagomato quindi ha una linea molto molto femminile a partire dalle spalle a sbuffo in pratica l'altro spolverino invece quello che appunto mi accompagna dal 2008 è un capo di Elvain Elvain credo che si dica così un marchio svedese che vendeva il negozio d'abbigliamento per il quale ho lavorato per svariati anni prima di diciamo fare altri tipi di lavori e lavoravo appunto in questo negozio d'abbigliamento questo negozio d'abbigliamento come vi ho detto aveva questo marchio svedese piuttosto costoso infatti io ai tempi credo di averlo pagato intorno ai 180 euro avevo appunto preso questo spolverino meraviglioso di cui mi ero assolutamente innamorata ho scoperto proprio per girare il video che lo shop Elvain esiste online tuttora e che tuttora questo modello è in linea permanente si chiama modello Gabi attualmente costa 164 euro online sul sito e nel caso vi lascio il link in infobox vi lascio il link al al modello indossato a me però sta molto molto più aderente di come sta la ragazza che praticamente lo veste un po' più morbido e un po' più con la vita nel punto vita mentre a me sta quasi a taglio in pero perché come vedrete in questo pezzo qua è aderentissimo poi è tagliato diciamo sotto il seno e poi si apre completamente a palloncino lo spolverino in questione è questo con le manichine semplicissime così come il polsino come vedete è tagliato sotto appunto sotto il seno e poi è veramente larghissimo ora io credo che qua voi non riuscirete granché bene a vedere come cade per cui vi lascio appunto il link ha il cappuccio dietro e ai tempi era veramente molto innovativo come stile infatti nel negozio portavamo tantissime cose di ispirazione di stilisti nordici perché i brand nordici erano avanti già da allora facevano delle cose molto particolari e io mi sono veramente innamorata di questo spolverino io cercherò anzi di farvelo vedere indossato un attimo io ho presi la extra small eccolo qua allora intanto l'ho utilizzato negli anni è mai spesa primaverile fu meglio diciamo compiuta di questa perché non smetto veramente mai di utilizzarlo allora ha la zip vedete lo chiudo così come vedete rimane molto 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 aderente e poi vedete si apre con le tasche ma è super 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 grosso giù cioè super a crolla proprio e io lo adoro mi dicono tutti che sembra il cappuccino di cappuccetto rosso se non fosse per il colore è veramente delizioso molto molto carino mi salva ogni primavera e non c'è anno o in questi anni in cui io non lo abbia utilizzato guardate l'interno l'interno ha questi fiori e ha appunto il tessuto classico trapuntato dentro vedete a retina passiamo adesso alla categoria giacca per quanto riguarda la categoria giacca ho un tripudio di cose quindi il tag l'ho inventato io ci posso mettere quanti pezzi voglio tu che farai il tag ti devi attenere da 1 a 3 scherzo non potete fare quello che volete allora vi faccio vedere dei pezzi economici e dei pezzi invece un po' più costosi qualcuno anche troppo molto costoso iniziamo con un pezzo low cost che fa parte del mio guardaroba da tipo 12 anni è una giacchina deliziosa in piede pool in tessuto tipo felpina di credo bershka o zara io credo che avessero l'etichetta addirittura così diversa da oggi che non riesco a capire se bershka o zara ma è uno dei due la giacchina in questione è questa qui e come vedete cortina arriva proprio sotto il seno così ecco qua arriva all'appunto vita ma malapena con queste chiusa da questi tre bottoncini con questa mezza manichina neanche a tre quarti e a due terzi no meno e insomma è deliziosa cioè io quando metto questa giacchina spesso metto anche delle collane in stile chanel mi sento una figa stratosferica ed è costata veramente niente perché l'ho presa ai saldi veramente l'avrò pagata tipo nove euro invece un pezzo iconico del mio guardaroba che è costato una follia è una giacca di uno stilista inglese molto diciamo famoso quantomeno si è famoso aveva fatto anche una collezione per H&M non so se la ricordate di Matthew Williamson di Matthew Williamson ho fatto la follia anzi questa me l'aveva regalata a Pablo di comprare questa giacca nera bellissima che ha questa decorazione con tutto quanto queste catene e queste perline sia sulle maniche che qui sul davanti è una giacca che ovviamente può essere portata sia per una serata elegante ma che io smorzo tantissimo proprio da mettere con le star con le scarpacce da ginnastica e i jeans strappati proprio per levarle quest'aria da asciura Maria in realtà pesa anche parecchio perché queste catene sono tutte quante appunto di vero metallo e sono piuttosto pesanti ma è una giacca fantastica era costata tanto 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 e insomma ovviamente chiusa qua da un gancetto guardate anche l'interno com'è bello è una giacca dalla fattura ineccepibile cioè mi casca addosso sembra disegnata per me e ovviamente insomma ha un certo costo ma anche un certo modo di cadere addosso che insomma si vede che è una giacca di alta sartoria veramente low cost è invece questa giacca di talli veil che presi anni fa e che tutte le primavere utilizzo tantissimo è rosa cipria color crema insomma molto molto sì una cipria secondo me con questo fiocchettino nero sulla schiena e davanti è così è una giacchina veramente super bon ton che però mi piace sempre tantissimo leggerissima la smorzo anche questa con delle t-shirt nere sotto anche con delle stampe i jeans insomma si può portare in maniera molto più easy se no insomma diventa veramente troppo impegnativa poi vi faccio vedere due giubbini uno è sempre della marca dello spolverino quindi sempre di Elvine lo comprai sempre nel negozio nel quale lavoravo Elvine è scritto così ragazzi ecco qua questo nello specifico non esiste più ho guardato è il modello Olga e questo modello non c'è più nel sito è un classico giubbino normalissimo di tessuto nero con i polsini nel punto vita e appunto sulle maniche classici insomma così a costine è il cappuccio la vestibilità di questo giubbino è ottima calza veramente benissimo e lo pagai piuttosto caro intorno ai 150 euro ma ripeto lo utilizzo costantemente ogni primavera appena arriva diciamo la bella stagione resta proprio appeso sul lomino all'ingresso perché è compagno di tantissime di tantissimi outfit è indistruttibile ho preso un sacco di lavaggi in lavatrice ed è come nuovo sempre nel negozio d'abbigliamento per il quale ho lavorato presi e qua si tratta probabilmente non lavoravo ancora per loro ma ero cliente l'ho presi da cliente quindi si parla di 2005 quindi ha una decina d'anni questo giubbino ed è un giubbino della marca rare scritto rare quindi anche questo mi costò veramente una fortuna era un periodo in cui spendevo molto di più per l'abbigliamento magari spendevo meno in altri ambiti per esempio il make up non spendevo niente questo giubbino è un giubbino di pelle argento tagliato con la forma del classico chiodo che però io riutilizzo ogni primavera perché l'argento e soprattutto il taglio a chiodo non passano mai 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 di moda eccolo qua ha diciamo le maniche rinforzate stile motociclista questo è un giubbino che è costato parecchi soldi ma che comunque insomma devo dire che sono dieci anni che sta nel mio guardaroba e che mi fa compagnia e quindi anche lui non posso fare altro che essere contenta di averlo di averlo comprato nonostante appunto il grande investimento iniziale arriviamo così alla voce abito sì abito qui ragazze ne ho vari abitini anzi ne ho tantissimi abitini perché sono una delle cose che preferisco indossare nella bella stagione sia in primavera che in estate però siccome vi faccio vedere un qualcosa veramente di esclusivo per dare rispetto a questo bambino che giace nel mio armadio vi farò vedere soltanto lui allora questo è un regalo di Pablo che mi ha regalato questo abito qualche anno fa due o tre anni fa più o meno no forse tre tre anni forse tre anni fa e questo abito mi è stato regalato e nel biglietto c'era scritto qualcosa del tipo perché tu ti senti a principessa ogni volta che vorrai una roba del genere e infatti è un abito di un certo livello e che credo avrò questo e questo e basta mai più nella vita un abito di così importante fattura è un abito di dolce gabbana e ve lo faccio vedere lo sto togliendo dalla dalla sua busta nel quale viene viene riposto devo dire che è un abito che mi ha lasciata senza parole l'avevo visto in collezione credo che avessi visto delle foto e poi lui insomma è andato a comprarlo è un abito tutto quanto in seta come vedete è trasparente infatti lo metto con sotto un body color crema e ha questo quando lo metto ma lo metto veramente poco ha questo fiocco sempre in seta qua sul davanti è fatto così con le manichine a sbuffo poi ha la gonna tutta completamente a balze eccolo qua vedete eccolo questo è il mio dolce gabbana e quindi insomma è ovviamente un abito molto importante a cui però sono anche molto legata ovviamente per ragioni sentimentali ma peraltro è un abito molto delicato perché è veramente ragazze una nuvola impalpabile come vedete le balze sono super trasparenti quindi vanno va portato senz'altro con una sottogonna perché anche se sotto le balze sono tante è un pochino trasparente ed è tutto appunto con questi disegni di fiocchi addosso è fantastico cioè vi sentite molto molto faighe con questo vestito e niente questo quindi è il mio il mio bimbo allora anche qui ho preso un pochino di cose dall'armadio e alcune sono estremamente low cost alcune sono estremamente costose allora tra le estremamente low cost c'è questa qui che è presa da cvg moda che ogni anno tutte le volte che la ritiro fuori dico wow quanto è figa mi piace da morire ed è questa camicetta qua con il punto vita segnato appunto da questo elastico in questo color ciprea e con questo davantino tutto plissettato che fa tanto donna bontone ladylike a volte la utilizzo anche con una cinturina doratina e adesso la fa tutto l'outfit perché la potete mettere con un jeans molto molto sovere di quelli non slavati eccetera è una ballerina e siete veramente super fighe la potete mettere con un semplice pantalone appunto nero fa molto 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 ragazza per bene è una quindi tiro sempre fuori e mi piace tanto sempre sua sorella sempre dai cinesi e quest'altra camicina così vedete sempre con il punto vita segnato dall'elastico e questo davanti con varie ruche sempre in questi colorini diciamo nude naked natural anche questa fa subito il look per bene e anche lei quindi mi piace tantissimo arriviamo quindi a tre pezzi invece dai cinesi andiamo ai grandissimi stilisti italiani e vi propongo tre camicette che sono una di Roberto Cavalli sì questa è di Roberto Cavalli ed è appunto una camicina in seta veramente super bon ton vedete era un periodo in cui ero veramente molto bon ton ma tanto mi torna ciclicamente la voglia di essere bon ton manichine a sbuffo così e anche tutto questo davanti con questo volant e poi questo pizzo vedete c'è tutto questo ecco inserto in pizzo la camicina è color crema con questi disegni neri ed è leggermente in un tessuto elasticizzato che penso però sia sia seta penso che sia una camicia in seta no è in viscosa questa questa è una camicia in viscosa ed è appunto una camicia di Roberto Cavalli e mi piace sempre tantissimo poi ho una blusa di Gucci che è questa qua che ha praticamente questo collettino vittoriano vedete adesso va stirata era riposta nell'armadio ha questo collettino alto qua che poi fa la rush qui come vedete ecco questo è così in realtà come vedete molto da signora degli anni 20-30 non so ha il davantino così sempre con la rush e i bottoncini dorati e si chiude rimane anzi chiusa fino a diciamo al punto vita e poi invece è morbida anche le maniche sono così con la rush e il bottoncino dorato è una camicetta che io uso tantissimo ogni anno la ritiro fuori e la riuso sempre ultima è una camicetta anche questa grande regalo di Pablo mi pare fosse della collezione Flora quando era venuto fuori il lancio del profumo la stampa che avevano rifatto anche le borse mi aveva comprato questa camicina di Gucci in questo colore super di moda ed è una camicia in seta con tutta questa rush davanti vedete lavorata doppia perché è una rush sotto e un'altra vedete qua attaccata al tessuto della camicia e a me queste camicine con le rush mi fanno impazzire perché le trovo veramente non lo so mi piace questo look da donna curata fine ed elegante che ogni tanto voglio voglio come si dice interpretare peraltro guardate che meraviglia sta camicia con questo trucco questo rossetto cioè la morte è sua e niente quindi queste camicine qua sono diciamo i must have primaverili in quanto a camice del mio del mio guardaroba e quindi adesso le riprendiamo tutte insieme e le riponiamo nell'armadio a farsi compagnia grazie a le riponiamo l'armadio le riponiamo a l'armadio 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 la può in l'armadio a